Emergenza cinghiali. Dopo la protesta dello scorso giovedì a Roma degli assessori regionali dell'agricoltura contro il ministero della transizione ecologica che sostengono i 21 delegati, di fatto blocca la possibilità dei territori di dare risoluzione al sovrannumero degli ungulati, in Molise l'assessore Nicola Cavaliere torna sull'argomento a seconda dei punti di vista promettendo o minacciando battaglia. Noi non ce la facciamo più a giustificarci nei confronti del sistema produttivo agricolo, delle aziende agricole, che ci imputano di non mettere in piedi azioni per ridurre questa specie. Ripeto, non so quante volte l'ho detto. Le regioni non hanno competenza in materia, ma è competenza dello Stato e in particolare del Ministero dell'Ambiente, del MITE. Fino a quando non vengono modificate alcune norme non abbiamo il potere di fare alcunché. Si è bloccato tutto, per volontà politica, per volontà delle forze che rappresentano o che hanno all'interno un'ideologia molto ambientalista, ma sul cinghiale c'è poco di essere sia animalisti che ambientalisti, perché è un animale che non solo distrugge raccolti, crea problemi ai cittadini, crea problemi ai sindaci, alla sicurezza del cittadino, ma crea problemi anche alla natura, all'ambiente, perché distrugge tutto anche la biodiversità. Quindi c'è poco da fare difesa di questo animale. Daremo al governo un po' di tempo perché si possa vedere una luce diversa da quella che oggi praticamente è coperta da nuvole e comunque avrete modo di avere i miei comunicati stampa sia in positivo che negativo e vi assicuro che se saranno negativi le rivindicazioni degli assessori insieme alle organizzazioni agricole saranno molto eclatanti sulla città capitale.